Sala Consilina ha dato l'estremo saluto a Pietro Pica, il cacciatore di 34 anni ucciso dal fratello durante una battuta al cinghiale. L'intera città si è stretta attorno alla moglie e ai suoi tre figli che da domenica scorsa piangono la scomparsa improvvisa del loro caro. Per il momento le indagini dei carabinieri hanno accertato che si è trattato di un tragico incidente. Il fratello della vittima di 25 anni ha lasciato partire un colpo dal suo fucile pensando di avere di fronte un cinghiale. Invece non era così. Anche l'autopsia ha confermato che Pietro è deceduto per essere stato raggiunto da un proiettile partito da una distanza di 150 metri. Il colpo ha perforato i suoi polmoni. Le indagini hanno anche accertato che la squadra di cacciatori impegnata domenica scorsa nella caccia al cinghiale era in regola con le disposizioni in materia. Chi ha sparato a Pietro ora è indagato per omicidio colposo, una tragedia che ha messo in ginocchio un'intera famiglia distrutta dal dolore. Pietro era molto apprezzato a Sala Consilina per la sua generosità e disponibilità.